Ciao a tutti e buongiorno. Questa settimana è stata sicuramente molto ardua, penso un po' per tutti quanti noi. Spero però di potervi strappare un momento di spensieratezza con queste poche tipiche. Vi auguro un buon ascolto. Quello che è uno dei punti cruciali per un carpista è sicuramente la scelta del terminale. Una giusta presentazione infatti è un alleato fondamentale per insediare le carpe, che può determinare l'esito della nostra pescata. Andiamo a vedere adesso quali possono essere i punti salienti. Sicuramente quello che ancora una volta influisce è il fondale. Indipendentemente da come abbiamo scelto il nostro spot, il fondale influenzerà la scelta del terminale. Partiamo analizzando un fondale melmoso. Un fondale melmoso, per me, è senza dubbio quella tipologia di fondale dove richiederà una presentazione che faccia sì che l'esca stia sopra lo strato di limo in modo tale che la nostra esca non venga a contatto con il limo stesso. Così facendo si evita che le boilies sprofondino nello strato del fango e quindi che si possano anche impuzzolentire. Mettiamola così. Per viare a questo problema potremmo utilizzare alcuni accorgimenti. Ad esempio, l'utilizzo di fombe di forma squadrata e una lunghezza del terminale di 25-30 cm sicuramente ci aiutano nella nostra azione pescante. Se invece siamo in un fondale che è ricco di vegetazione potremmo usare questi accorgimenti. In quanto alla presentazione, io preferisco sinceramente pescare non tanto vicino alla vegetazione poiché se no il pesce si potrebbe andare a intanare e utilizzare delle piccole pop-up non tanto distaccati. Anche perché così, come vi ho detto, in caso di allamata se la carpa si va a incaggiare noi abbiamo poco spazio cioè quel pezzo di terminale mi è più che sufficiente quei 20-25 cm di terminale mi sono più che sufficienti per poter tirare fuori il pesce e poterlo un po' forzare. Quindi uso finale abbastanza corti, come ho detto sui 20 cm massimo quello che farà la differenza sarà la lenza che ho in bobina di solito io metto un trecciato e uno 0,70 come shock leader Ora prendiamo un esempio altri fondali analizziamo i fondali ghiaiosi e rocciosi nel primo caso, quindi nel caso in cui io abbia fondali ghiaiosi mi sento più tranquillo in quanto le presentazioni possono essere ben libri perché abbiamo dei sassolini, della ghiaia quindi non è che abbia tanti ostacoli o non è che abbia dei grossi problemi io che amo utilizzare le pop-up uso semplicemente un D-Rig in fluoro oppure un Blowout Rig certo staranno noi poi a capire nell'andare della pescata qual è la presentazione qual è l'Ace Cup che può rendere meglio naturalmente, visto che nel Car Fishing nel Car Fishing si usano anche tre canne se due canne le metto in uno solito spot una affondante e una pop-up tu entrambe fanno il solito gioco e riesco a capire qual è la presentazione che meglio si addice i terminali anche in questo caso avranno una lunghezza al massimo di 20 cm anche perché con 20 cm di terminale noi abbiamo un'auto ferrata più importante abbiamo un aiuto più che valido poiché avendoci poco contatto come ho già spiegato e se non l'avete letto o ascoltato vi invito ad ascoltare qui nel canale di Ema il video dedicato abbiamo una lunghezza di 20 cm e quindi mi aiuta nell'auto ferrata una scelta che adotto in questi casi è scegliere un'esca che abbia colori accesi e che vada a incuriosire le carpe in un fondale con presenza di grossi sassi e in fiume, capita molto spesso opto personalmente per usare eschi bilanciati e affondanti fino al mese di presentazione dovrei avere sempre nel caso come nel caso in cui abbia ghiaia una lunghezza corta per aumentare sempre l'auto ferrata di pesce e con questo si conclude questo nostro appuntamento settimanale di chiacchierata tra carpisti rinnovo l'appuntamento a lunedì con il sondaggio per i nuovi argomenti del sabato vi invito a iscrivervi al canale di Ema Ema Fishing lasciare un like condividere e perché no iscrivetevi al canale tanto non vi costa niente alla prossima a e Grazie per la visione!